A voi tutti buonasera e bentornati. A parliamoci chiaro continua la mobilitazione della nostra città impegnata su più fionti per aiutare la popolazione ucraina. Da un lato l'accoglienza dei profughi in fuga dal loro paese martoriato dalla guerra con diverse decine, soprattutto donne e bambini che sono giunte nel nostro territorio. Poi l'invio in Ucraina di beni di prima necessità, farmaci, indumenti e quant'altro attraverso una serie di raccolte e iniziative a cui anche questa sera daremo voce. Anzitutto presento qui in studio con noi a ringrazio Nicoletta Odivi, responsabile accoglienza COP22 della Fondazione Opera Santa Rita. Buonasera. Che appunto si sta occupando e gestendo l'accoglienza dei profughi ucraini. Avremo poi in collegamento fra pochi minuti anche l'onorevole Giorgio Silli, deputato di Coraggio Italia e serietario di presidenza della Camera dei Deputati. Tanti contributi, tante testimonianze raccolte e tra appunto coloro che hanno lasciato l'Ucraina per recarsi qui da noi e dunque donne appunto come dicevamo che hanno purtroppo lasciato lì i propri affetti per portare in salvo i propri bambini che ascolteremo in un servizio realizzato da Marco Manzo ma poi anche la testimonianza di un imprenditore pratese che la scorsa settimana per primi abbiamo intervistato Mirko Vangi anche lui fuggito con la propria famiglia dal nord dell'Ucraina dove appunto viveva da una quindicina di anni e che proprio ieri sera ha raggiunto la nostra città dopo ben cinque giorni di viaggio. Ascolteremo dunque anche la sua voce e poi ci collegheremo, anzi lo facciamo subito per un primo saluto con Lucrezia Sandi che si trova per noi a Montemurlo dopo questa sera in programma una manifestazione, Montemurlo per la pace. Lucrezia, buonasera. Buonasera Giancarlo, buonasera a tutti i nostri telespettatori, esatto ci troviamo a Montemurlo per dire no alla pace in questi giorni, per dire no alla guerra naturalmente, in questi giorni sono stati molti comuni e amministrazioni che hanno organizzato manifestazioni con questo grido che si è allevato dalle città, dalle comunità anche lontane tra loro e quindi questa sera a Montemurlo come vedete circondata da tanti bambini perché sono loro i protagonisti con tanti disegni preparati a scuola. Per esempio qui c'è, come ti chiami? Dalia. Cosa hai preparato? Un cartellone. Faccelo vedere, spiegacelo. Cosa c'è scritto? Che non dobbiamo fare gli stessi errori che hanno fatto Hitler e Mussolini. Dove l'hai preparato? A scuola con la terza Alberto Vanzi. A Montemurlo. A Montemurlo, quindi nelle scuole montemurlesi si preparano questi disegni, questi cartelloni per dire no alla guerra, quindi a tra poco linea allo studio. Grazie Lucrezia, saluto in redazione come sempre Arianna Di Ruba. Ciao Arianna. Buonasera agli ospiti e buonasera a tutti voi che ci seguite da casa, che potete interagire come sempre con noi, mandandoci un messaggio, sia sms che whatsapp al numero 331 188 8676. Potete inviarci se no una mail a parliamoci chiaro chiocciolattvprato.it o ancora scriverci sui social network, sia su Twitter con l'hashtag parliamoci chiaro che su Facebook alla pagina di TV Prato, quindi vi aspetto. Tra le tante iniziative di solidarietà partite dalla nostra città c'è anche quella della misericordia di Prato che lunedì sera ha dato il via a un viaggio umanitario con una delegazione formata da 5 confratelli guidata dal governatore Laila Minelli, un viaggio in Romania per consegnare i viveri medicinali coperti, ma non solo e noi abbiamo in collegamento proprio dalla Romania questa sera Laila Minelli che vediamo e salutiamo. Buonasera governatore, grazie anzitutto di aver accettato il nostro obiettivo. Grazie e ecco le chiedo subito anzitutto dove vi trovate. Noi in questo momento siamo a Barlad, una cittadina qui in Romania abbastanza vicina al confine con la Moldavia. E' qui che siamo arrivati in martedì sera dopo circa poco meno di 24 ore di viaggio. Siamo in sei io e altri cinque confratelli della misericordia. Qual è la situazione che avete trovato? In quella zona, se non erro, nelle zone che state visitando sono stati organizzati, approntati anche dei centri di accoglienza, dei profughi che arrivano tramite la Moldavia, mi correga se sbaglio. Sì, appunto come dicevo qui il confine con la Moldavia è veramente vicino. La Moldavia è comunque uno stato piccolo, stretto ed è conseguentemente molto vicino anche il confine con l'Ucraina. Hanno predisposto qui dei centri di accoglienza, in particolare il comune di Shultea, che è un comune abbastanza piccolo qui vicino a Barlad. Noi avevamo già avuto dei contatti con questo comune negli anni precedenti per un'altra iniziativa. Siamo venuti qui, ieri è stato il primo giorno che ci siamo recati nel comune. Abbiamo consegnato a loro del materiale per permettere loro di continuare questa accoglienza. Loro riescono ad arrivare direttamente al confine tra la Moldavia e l'Ucraina e a dare ospitalità a 30-32 fra donne e bambini. Questi sono nel loro comune per poco tempo. Il tempo necessario per poi riposarsi, ripocillarsi, magari poter prendere abiti puliti, asciutti, caldi e ripartire per il loro viaggio. Questa è stata la prima tappa di ieri. Poi ci siamo spostati proprio sulla frontiera di Albizia. È un posto di frontiera sempre in prossimità, ma veramente pochi metri dal confine con la Moldavia. Anche lì c'è un punto di passaggio dei profughi e abbiamo lasciato anche al loro del materiale prevalentemente cibo per bambini che mancava in modo particolare e anche lì coperte calde, tutto quello di cui loro avevano bisogno per permettere loro veramente di aiutare le persone appena arrivano. Sono veramente tante le persone. Nella giornata invece di oggi siamo stati proprio in un centro profughi e abbiamo avuto contatti con loro, con queste donne, con questi bambini. Le volevo chiedere proprio questo. Cosa dicono i volti di queste donne? Che impressione avete avuto? I volti di queste donne sono volti che ci raccontano la guerra. I loro occhi, i loro sguardi, in dei momenti persi veramente anche nel vuoto ci raccontano il dramma di questa guerra. Vedere queste donne, più o meno giovani, con i loro bambini, a pensare, a decidere dove andare, a proseguire la loro vita. È veramente un dramma immenso. A noi ci siamo confrontati con qualcuno di loro. Un attimo prima ci dicevano che andrò a Malta. Un attimo dopo venivano a chiedere a noi ma possiamo venire in Italia? E subito dopo no abbiamo deciso, andiamo in Germania. Quindi questo per fargli capire il loro stato d'animo, il fatto di sentirsi in questo momento senza una terra, di vivere fortemente il senso di patria, quella patria che loro hanno lasciato, dove hanno lasciato i loro uomini, i loro mariti, i loro padri. E ritrovarsi adesso a trovare veramente un posto dove proseguire la loro vita. Vedere queste donne sedute con lo sguardo perso veramente nel vuoto, anche le persone, le signore, quelle più anziane, è veramente pesante, doloroso. Vedi veramente la guerra nei loro occhi. Fortunatamente siamo riusciti comunque anche con i mezzi e la tecnologia attuale a comunicare con loro. E questo è stato molto bello. Abbiamo avuto un modo anche di dedicarsi un po' ai bambini e a giocare un po' con loro. Infatti avete svolto anche questo importante compito, se così possiamo dire, di animazione con i bambini del posto. Come siete stati accolti da loro? Noi quando siamo arrivati siamo stati accolti con un applauso e un grazie a Italia che ci ha fatto veramente commuovere perché è stato veramente bello questa accoglienza. E i bambini subito si sono messi lì a giocare con noi felici di averci lì con loro. ed è stato veramente molto bello. Prima parlavo appunto di materiali che avete consegnato. Che tipo di aiuti avete portato alla popolazione del posto? Di cosa c'è bisogno? Ora che siete lì forse vi rendete ancora meglio. Qual è la situazione? Sì, allora c'è bisogno veramente di tutto. A partire dai generi alimentari, soprattutto per l'infanzia, a abbigliamento, a biancheria intima. Noi abbiamo veramente spazzolino, dentifricio, proprio tutto quello che riguarda l'igiene della persona. Abbiamo allestito e subito aperto le nostre scatole e messo lì a disposizione in modo tale che loro potessero prendere tutto quello che gli occorreva. Asciugamani, coperte, le scarpe. Una signora è venuta proprio a chiederci se avevamo le scarpe per i bambini. Ovviamente sì, le avevamo. E quindi hanno potuto prendere veramente quello che gli occorreva. Poi abbiamo con noi anche dei farmaci e li abbiamo messi ovviamente a loro disposizione. In questo caso per la distribuzione ci siamo fatti comunque aiutare dal medico del comune, della città appunto, del comune di Sciuletea. In modo tale che, come dire, queste mamme fossero comunque aiutate dal medico nel comprendere i farmaci che gli venivano dati a cosa occorreva. Ovviamente erano quelli che loro hanno preso i farmaci da banco, però ecco per dire le mamme magari cercavano la tachifirina da potersi portare dietro nel caso in cui il bimbo potesse avere febbre o vitamine. Tante persone prendevano volentieri integratori di vitamina, ma ovviamente una signora anziana che è venuta lì e in Ucraina mi diceva una parola. Io ho capito essere diabete e a quel punto aiutandoci con Google Traduttore abbiamo capito che la signora appunto stava cercando il farmaco a base di metformina. e noi l'avevamo e quindi gli ho fatto vedere le confezioni, l'avevamo addirittura di due dosaggi da 500 e da 750 e quando lei ha visto il dosaggio giusto, il suo, mi ha abbracciato veramente tanto perché aveva finalmente il farmaco di cui aveva bisogno. Ecco Minelli un'ultima domanda, la prossima tappa del vostro viaggio quanto resterete ancora in Romania prima di ritornare a Prato? Allora noi domani mattina ci muoveremo nuovamente per poter raggiungere altre postazioni, altri luoghi dove fanno accoglienza per appunto per i profughi, per riuscire veramente a dare aiuto a più persone possibili. Pensiamo di concludere la distribuzione del nostro materiale nella giornata di domani e quindi poi ripartire per tornare in Italia. In realtà non abbiamo portato con noi in questo viaggio, in questa missione tutto il materiale raccolto. La città di Prato, permettetemi veramente di ringraziare tutti e tutti i pratesi, ha dimostrato una generosità commuovente veramente. Le donazioni che ci sono arrivate di materiale sono state tantissime al punto in cui noi siamo partiti carichi più che potevamo ma abbiamo talmente tanto materiale che nei prossimi giorni da Prato stanno già organizzando la partenza per un TIR per farla arrivare qui ai nostri contatti ai contatti che stanno ovviamente crescendo, aumentando in questi giorni i nostri di permanenza. Veramente grazie, grazie a tutta la città di Prato che ha risposto in modo così generoso. Io, scusate, ma colgo veramente l'occasione di ringraziare anche tutti i nostri confratelli e le consorelle della misericordia di Prato e di tutte le sue sezioni che tanto si sono impegnati in questi giorni per la buona riuscita di questa missione, preparare tutti gli statoloni e raccogliere tutto quanto. Grazie, siamo anche noi che ringraziamo voi per quello che state facendo e per questa bella testimonianza. Grazie ancora e ovviamente vi auguriamo buon proseguimento di questo viaggio che sicuramente ci avvicina, seppur a distanza di chilometri, purtroppo a quello che è il clima che si vive in quei territori e che noi stiamo cominciando ad apprendere direttamente anche dalla voce e dalle storie delle donne, dei profughi che stanno arrivando sul nostro territorio. Grazie Governatore, grazie ai confratelli che vediamo alle sue spalle, li salutiamo. Alla prossima, grazie. Buonasera. E noi adesso vogliamo proprio dar voce, come dicevamo, a queste donne che hanno lasciato i propri affetti nel paese, in Ucraina, e sono venute qui da noi per portare in salvo i propri figli. Ne ho ascoltate alcune, non solo, anche altre testimonianze che Marco Manzo ha raccolto in questo servizio. La paura per la guerra vissuta sulla propria pelle, il dolore di chi è costretta ad abbandonare la propria terra, la fatica del viaggio, la speranza di trovare accoglienza e il desiderio di tornare prima possibile a casa. È un fiume di persone e sentimenti, quello che scorre dall'Ucraina verso gli altri paesi europei. Anche l'Italia ha aperto le proprie porte, decine di profughi, soprattutto donne e bambini, sono arrivati e continuano ad arrivare anche a Prato. Per noi la prima cosa di essere qui è la protezione dei nostri bambini e noi. Sì, abbiamo avuto paura e purtroppo tuttora non è sparita, non ci sentiamo così liberamente come l'abbiamo sentito prima di guerra. E' il loro sogno di tornare alla loro terra in Ucraina. Vorrebbero tornare anche stasera, anche oggi. Purtroppo non è possibile. Italia è un paese bellissimo e gli piacerebbe tanto venire a fare una vacanza in Italia, però non vedono l'ora di tornare in Ucraina. Oltre a chi è fuggito senza avere alcun appoggio altrove, ci sono anche le storie di ucraini che vivono da tempo in Italia e si sono attivati per far scappare dalla guerra i parenti, accogliendoli al sicuro. Resta però l'ansia per gli uomini che sono rimasti a combattere, per le famiglie costrette a dividersi. Sono in Italia da 15 anni e quando è scoppiata la seconda fase della guerra, perché la prima è scoppiata nel 2014, il 25 febbraio ho deciso di portare i miei parenti qui. Giustamente non tutti, perché uomini, i miei nipoti e mio fratello sono rimasti lì. Tanta paura, tanta paura, tanta tristezza, però dall'altra parte io sono orgogliosa di questi miei nipoti che hanno 22-25 anni, di mio fratello che è del 74, che loro non ci sono nascosti sotto letto oppure nelle Leopoli dove ancora non c'è niente. Sono andati a difendere la loro terra, la loro città e voglio dire che ho avuto un'accoglienza meravigliosa, un grande cuore così io mai visto. Questa cosa non dimenticheremo mai. Grazie veramente a tutti di cuore. Per chi non ha la possibilità di essere ospitato da amici o parenti, vengono messi a disposizione posti nei centri di accoglienza straordinari all'interno del sistema di accoglienza e integrazione gestito dai comuni. Ma anche le parrocchie fanno la loro parte, quando possibile, come nel caso di Tavola, dove il parrocchie ha accolto otto profughi, di cui quattro bambini. Sono triste, ma mia famiglia è ancora là. C'è mio figlio, c'è la Nora, c'è i suoi quattro figli, c'è sorelle, c'è fratelli. Non posso venire tutti qui. Non posso. E c'è altre famiglie. E c'è altre famiglie che soffrono tanto. Soffrono tanto. Per che motivo? Per che motivo ho fatto così? Vogliamo bene per tutto il mondo. Vogliamo pace. Vogliamo pace, non guerra. Anche c'è gente, tanti da Russia, non lo vogliono guerra. Non lo vogliono nessuno. Perché non ascolta? Perché non ascolta questo presidente? Dove sta il cuore? Dove sta il cuore suo? Per tutti i nostri, dove? Anche se col dolore nel cuore e la paura ancora negli occhi per chi è riuscito a fuggire dalla guerra, la vita continua. È il caso di Nikita. Ha dieci anni ed è scappato dall'Ucraina insieme ai genitori, riparando a Prato, dove abita la nonna. È stata lei a volerlo inserire a scuola, per un bisogno di normalità. Così Nikita da alcuni giorni ha nuovi compagni di classe nella quarta C dell'Istituto Comprensivo Mascagni. E come lui, tutti gli altri bambini e ragazzi in età scolare che arrivano a Prato vengono inseriti nei percorsi scolastici. I bambini sono stati informati e preparati, proprio perché la nonna mi aveva comunque esposto a questa fase particolare anche a livello emotivo del bambino, che era comunque spesato, non sapeva, non conosceva una parola di italiano. In realtà c'è stata molta solidarietà, anche positività, allegria da parte dei bambini nell'accoglienza del primo giorno a scuola, che è stato il 28 di febbraio, e hanno preparato cartellonistica varia di benvenuto. Lui a oggi invece dimostra già di conoscere le prime parole di italiano, che sono stati i bambini, credo in primis a dargli serenità. Io l'ho conosciuto, sono andata a conoscerlo in questi giorni, ho aspettato un pochino per capire come andava, ed effettivamente mostra serenità. E questa per noi è la prima cosa, al di là poi dell'apprendimento, che sicuramente ci sarà, ma la serenità. Garantirà a lui uno stato emotivo, consono, alla sua età. Intanto ha preso il via la manifestazione Montemurlo per la pace, allora subito alla linea Lucrezia Sandri. Lucrezia. E sì Giancarlo, noi abbiamo una storia incredibile che abbiamo trovato proprio mentre eravamo qua in Piazza della Libertà. La signora Tatiana, che lavora e vive a Montemurlo e che è andata a prendere con la sua macchina la figlia e la nipotina al confine. Confermo alla dogana di Polonia, perché quando ho sentito che ho cominciato a bombardare, ho fatto là, non poteva fare come tutte le mamme. Sono andata a prendere i miei figli. Come da parte ucraina, genero accompagnato un po' vicino e rimasto lì, perché il suo dovere è rimanere lì. Il genero sta combattendo in Ucraina? Sì, faccio protezione civile alla città per il momento, poi quando chiamano per il momento il suo dovere è rimanere lì. Come si chiamano la figlia e la nipotina? Ho due figli, ho portato due figli, Natascia, Ira e Yara. Nipotina Yara ha quattro anni. E' qui a Montemurlo quindi, qui con lei? Sì, stanno con me. Tanta preoccupazione, tanta paura prima di andare a prendere. Abbiamo preso tanta paura, perché come hanno visto incubo, anche questa notte per andare, abbiamo visto incubo. Adesso sono qui al sicuro con lei. Sono tranquilla io, perché ho portato in posto il sicuro, poi siamo male tutti. Grazie davvero alla signora Tatiana per averci raccontato. Vuole dire qualcos'altro? No, per il momento no. Speriamo che finisse tutto, perché vogliamo tutti pace. Speriamo. Lei da quanti anni è qui in Italia? Da venti. Lei si immaginava di arrivare a questo punto? No, non ci credo neanche ora, ma purtroppo è successo. Ma purtroppo è successo. Ma speriamo che finisse, perché è un incubo. C'è tante gente che hanno bisogno di aiuto. Ovviamente l'emozione è tanta, però noi la ringraziamo per averci raccontato questa storia. Grazie davvero e restituiamo la linea allo studio. Salutiamo, nel frattempo si è unita a noi anche l'onorevole Giorgio Silli di Coraggio Italia. Buonasera, buonasera onorevole. Buonasera, ciao, salve. Grazie di essere con noi. Abbiamo visto poco fa il servizio alla scheda di Marco Manzo, Ulivi, dedicata all'accoglienza dei primi profughi che sono arrivati in città. Anzitutto di che numeri stiamo parlando ad oggi? Complessivamente nella città di Prato sono state accolte una trentina di persone all'interno dei centri di accoglienza, sia CAS che SAI, ma le persone che sono transitate all'interno della nostra città, della nostra provincia, sono molto più alte. Di che tipo di accoglienza c'è stato bisogno? Perché immaginiamo, ovviamente l'accoglienza è il vostro pane quotidiano, un'attività che portate avanti da tanti anni. Questa volta ci troviamo di fronte a un tipo di accoglienza diversa, soprattutto donne e bambini, abbiamo detto, che vengono via dal proprio paese, con l'obiettivo e la speranza di poterci tornare quanto prima. Dunque, insomma, è anche un tipo di accoglienza diverso da quello a cui siamo abituati, no? Certo, un'accoglienza diversa, prima di tutto perché arrivano appunto donne con bambini, ma perché poi non c'è una volontà di migrazione, quindi non c'è un progetto migratorio dietro al loro fuggire dalla guerra e quindi si ritrovano in un paese che non hanno scelto o che hanno scelto in condizioni precarie e che magari conoscono soltanto grazie alla presenza di qualche loro parente. Le persone che sono arrivate hanno tutti i legami in qualche modo con la città e quindi le persone che abbiamo accolto sono arrivate e comunque hanno delle relazioni familiari e questo facilita un pochino l'accoglienza, nella fase iniziale perlomeno. Onorevole Silli, questo conflitto ci tocca in modo particolare, la guerra che torna in Europa l'avevamo avuta anche più vicina, no? L'Italia se vogliamo negli anni 90 con la guerra nei Balcani, stavolta pur ribadendo a tutte... Adesso, chiedo scusa, Gisonio, ho perso gli ultimi... Ecco, mi sente adesso? Ho perso gli ultimi 5 secondi di domanda. Perfetto, no, le stavo dicendo questa... Sì, no, me la sento benissimo, ho avuto 5 secondi di buio. Di blackout, ecco, ora funziona. No, le dicevo, questo conflitto, permesso che tutte le guerre sono drammatiche e non ce n'è una peggiore delle altre, però sicuramente questo conflitto ci tocca più da vicino. Abbiamo avuto la guerra in Europa negli anni 90 nei Balcani, stavolta ci spaventa ancora di più. Sarà perché c'è una potenza militare che ha deciso a una mattina di invadere un paese libero? Sarà per le conseguenze che questo conflitto potrebbe avere? Sì, lì. Beh, indubbiamente siamo di fronte non a un episodio di guerra come purtroppo siamo abituati a vedere sui telegiornali. Ora noi spesso, noi italiani, no, ci atteggiamo un po' a opinionisti. Osserviamo, diamo giudizi, decidiamo chi ha ragione e chi ha torto, quasi convinti che a noi non tocchi o non toccherà mai assolutamente. Insomma, questo conflitto è un qualcosa di particolare, non è un conflitto tra due paesi lontani e che non hanno legami con noi. È un conflitto che purtroppo ha un carattere assolutamente simbolico. Noi abbiamo visto una aggressione con i carri armati di un paese soprano perché questo paese voleva entrare a far parte del blocco occidentale. Questo diciamo in parole povere. Questo anche un po' per riassumere quello che molti fenomeni scrivono sui social. No, io sono assolutamente attonito e lo dico assumendomi nella responsabilità politica. che non mi vorrà votare con persone che giustificano un'aggressione di questo tipo, a costo di perdere una palanca di voti. Perché le ragioni in geopolitica, come dire, stanno sempre da entrambe le parti. Perché la storia è lunga, il passato è complesso. In geopolitica, diceva Andreotti, non esistono i buoni o i fattiti. In geopolitica esistono gli interessi nazionali. Però, insomma, la volta che tu invadi un paese con i carri armati, uccidi i civili, i bambini e provochi quello che sta provocando in questo momento la follia di Putin, devi assumertene la responsabilità politica su scala internazionale. E quello che sta avvenendo è il minimo che potesse avvenire. Il minimo. Probabilmente in un altro periodo, probabilmente durante la guerra fredda sarebbe successo ben altro. Come del resto, è il minimo aiutare gli ucraini a difendersi, o attraverso le sanzioni, o con l'invio di aiuti sanitari, umanitari e anti-militari. La situazione è molto preoccupante, perché, glielo dico a un membro della Commissione difesa, io mi sono trovato a dovero votare per l'invio di questi armamenti. E io, che sono un cattolico, sono un credente, ho voluto anche dirlo durante la confessione, che mi sentivo un peso sulla coscienza. Ebbene, io leggo delle informative, perché, diciamo, le informazioni che abbiamo noi alla Camera forse sono un pochino più attendibili di quelle che hanno i terrapiattisti sui social, o di quelli che dicono, sono informazioni molto preoccupanti, molto, molto preoccupanti. Perché anche se dovesse, come dire, scoppiare la pace, domani mattina, tra Ucraina e Russia, che non scoppierà, questa roba ha creato uno squarcio e avrà degli strascichi geopolitici per 10 o 15 anni. È veramente, veramente preoccupante. Detto questo, noi dobbiamo fare, come dire, quello che stiamo facendo. Aiutare la resistenza in loco, andare avanti con le sanzioni, essere compatti come mondo occidentale, quindi Europa, chi fa parte della Nato, Nato, perché non si sa mai. Cioè, chi invade un paese sovrano oggi potrebbe farlo domani con noi, o con altri paesi del blocco Nato. E soprattutto aiutare chi fugge, dare il massimo di ospitalità. Tra l'altro io, lo dico così, stasera ci sono a lei, non ho chiamato stampa, perché insomma, non amo fare tanta scena. Domani andrò a trovare i primi arrivati, che tra l'altro so che sono gestiti dalla cooperativa 22. Ho parlato oggi con la Prefettura. E' il minimo che possiamo fare per trasmettere solidarietà se è arrivato in Italia, che l'Italia sta facendo di tutto per salvare i loro mariti, i loro padri, i loro fratelli che stanno combattendo l'Ucraina. E guardi, glielo dico con un dolore doppio, perché io ho vissuto a lungo in Russia, ho vissuto a Mosca, l'ho girata per lavoro in lungo e in largo, quando si vendevano i tessuti da cappotto ancora. parlo russo bene, ho amici in Russia. Quindi, come dire, dover additare la Russia come responsabile in questo momento, per me è un dolore doppio. Ma questo è un momento che non dà spazio ai tentennamenti. I momenti di pace, si può fare anche ai filosofi, e dire, ma in passato lui ha ragione, lui ha... In momenti di guerra, o si sta da una parte, o si sta dall'altra. Con tutto quello che ne consegue, sia da un punto di vista umanitario, che economico, che eventualmente militare. Anche perché in questo caso, Silli... Andiamo a concludere. Sì. No, le dicevo, anche perché in questo caso, Silli, al di là delle... Non c'è in gioco soltanto la sovranità, giustamente, dell'Ucraina. Qui c'è in ballo valori come democrazia e libertà che ci riguardano tutti da vicino, no? Non è solo una guerra dell'Ucraina contro la Russia. Ma certo, ma certo, ma certo. Io tra i vari detrattori, i vari filo Putin, che scrivono sui social, ce ne sono alcuni che provano a giustificare, no? Adducendo a determinate informazioni, peraltro farse, che Zelensky sarebbe stato messo lì da un colpo di Stato. Zelensky, per il quale io non nutrivo neanche particolare simpatia fino a due settimane fa, ma glielo dico proprio a pelle, non mi piaceva perché. Zelensky è stato eletto con il 73% dei voti. Probabilmente il presidente filo americano era quello prima. Come prima ce n'era un altro filo russo. Zelensky, per l'appunto, sembra essere forse l'unico eletto a larghissima maggioranza in rappresentanza del popolo. E chi dice che l'Ucraina dovrebbe arrendersi, insomma, fa rigirare nella tomba i partigiani o tutti i colori che hanno fatto la tomba di Stato. Ma stiamo perdendo, Sili. Vediamo se riusciamo a... Il 33% del popolo non può e non deve far arrendere il suo paese. Vediamo se riusciamo a migliorare anche il collegamento consigli. Intanto vediamo Lucrezia Sandri che è nuovamente con degli ospiti accanto da Montemurlo, dove è in corso la manifestazione Montemurlo della Pace. Prima, nel precedente collegamento, abbiamo visto anche il sindaco Simone Calamai tenere il suo discorso. Poi lo avremo anche ai nostri microfoni. Lucrezia. Sì, Giancarlo, in una piazza della libertà ormai veramente affollata, tanti montemurlesi hanno risposto all'invito dell'amministrazione comunale a riunirsi in piazza per levare questo grido dalla comunità montemurlese a dire stop alla guerra in Ucraina. Io sono con in particolare tre ospiti, appunto, come hai detto, Giuliano Manzione, commissario di Oste, Daniele Lombardi, presidente della misericordia di Montemurlo, e Francesco Messineo del CISOM. Tutte associazioni che sono impegnate in queste ore, in questi giorni, per portare farmaci, coperte, indumenti, tutto ciò che possa servire alla popolazione oppressa in Ucraina. Farmaci, dicevamo, il CISOM in particolare sta coordinando tutte queste raccolte. Il CISOM sta lavorando sul territorio, sulla base di un progetto che è partito dalla nostra direzione nazionale. Stiamo raccogliendo farmaci e generi di prima necessità da destinare alle popolazioni ucraine in fuga dalla guerra. Già da sabato scorso abbiamo attivato i primi presidi davanti alle farmacie del territorio comunale, e il prossimo fine settimana saremo nuovamente presenti davanti alle farmacie e anche davanti alle parrocchie per raccogliere generi di prima necessità. Inoltre, a livello nazionale, grazie ai nostri gran priorati e a tutto l'ordine di Malta, è stata attivata una raccolta di fondi a favore dell'assistenza che viene fornita a tutti i profughi provenienti dall'Ucraina. Tutte le informazioni potete trovarle direttamente anche sul nostro sito istituzionale che è il www.cisum.org. Ovviamente anche tutte le misericordie sono impegnate in questi giorni. In quali attività in particolare a Montemurlo? Allora, diciamo che praticamente le nostre sezioni Montemurleoste si sono aperte a ricevere appunto la grande solidarietà della nostra comunità, che ci hanno letteralmente sommersi con tutti i beni di prima necessità che servono a questo popolo che è stato colpito da questa calamità inaudita. Per giorni sono arrivate tutte le derrate alimentari, medicinali, vestiti e i nostri volontari, devo dire che come sempre, si sono immedesimati nella situazione e si sono prestati a inscatolare tutta questa roba per poi creare le colonne mobili che le porteranno, le hanno già portate a due grandi viaggi, con un viaggio della nostra Arcion Fraternita al confine appunto ucraino. Abbiamo visto infatti il cuore grande dei montemurlesi, come sempre. Sì, il cuore grande dei montemurlesi e non solo. Tengo a precisare che già da tre giorni c'è due camion che sono in Romania ai convini con la Moldavia dove stanno portando i beni di prima necessità, medicinali, coperte e quant'altro. Ci sono sei nostri volontari, compresi il governatore della misericordia di Prato e il vice provveditore che sono lì da tre giorni a cercare di distribuire, di fare il massimo che è possibile. Infatti è un impegno che anche come TV Prato abbiamo documentato. Intanto stanno andando avanti sul palco le dimostrazioni, anche le cose preparate dai bambini, dai ragazzi, letture di poesie, di canzoni e quindi vi lasciamo, restituiamo per ora la linea allo studio. Grazie Lucrezia e visto che appunto in questo collegamento hai fatto riferimento a una serie di iniziative che da Montemurlo sono partite per aiutare la popolazione ucraina, in questo servizio ne ricordiamo altre a cominciare dalla raccolta promossa dalla Caritas in collaborazione con l'Associazione Celle Aperti. Vediamo. Ancora una volta la generosità dei pratesi non si è fatta attendere. In tanti hanno aderito alla raccolta promossa dalla Caritas diocesana a sostegno della popolazione ucraina duramente colpita dalla guerra. Molte le persone che hanno portato materiale nel magazzino dell'Associazione Celle Aperti di Via Roma che collabora all'iniziativa, aperto il lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12. L'invito è quello di raccogliere prodotti alimentari e per l'igiene personale, coperte e sacchi a pelo per dare conforto e aiuto alle persone in fuga e sono tanti anche coloro che hanno dato la loro disponibilità per aiutare nel servizio di imballaggio. Noi siamo rimasti molto contenti, non ci si aspettava un'adesione così grande. Stanno partecipando tanti volontari di tante fasce d'età, è arrivata tantissima roba e per fortuna ci sono i volontari perché altrimenti da soli non avremmo potuto riuscire a impancalare tutto e a inscatolare tutto. Ora stiamo organizzando un primo viaggio verso la Polonia e poi ci stiamo appunto appoggiando a Don Gabriel per poi far partire il tutto verso la Romania. Comunque è bello vedere in questa situazione triste che un po' ci lascia, non solo col fiato sospeso ma anche ci lascia l'amaro in bocca, come la gente si sta organizzando per essere solidale nei confronti degli altri. Federfarma e Ordine dei farmacisti hanno deciso invece di donare medicinali salvavita alla Croce Rossa per inviarli in Ucraina alla popolazione colpita dalla guerra. Nelle farmacie pratesi tutti i cittadini possono contribuire personalmente alla raccolta acquistando e donando farmaci che la Croce Rossa spedirà in Ucraina. Abbiamo colto con grande piacere questa richiesta fatta dalla Croce Rossa di poter essere utili alla popolazione ucraina così crudelmente martoriata in questo periodo e ci siamo attivati rapidamente per fare una donazione di farmaci, farmaci importanti che ci sono stati richiesti e sulla base della lista che ci è stata fornita grazie anche alla collaborazione della nostra cooperativa la Cofardis abbiamo potuto rapidamente perché in pochi giorni mettere su una attività che ci ha permesso attraverso questa donazione di raccogliere un bel numero di medicinali che verranno inviati in Ucraina. Oltre a questo noi come farmacie sul territorio siamo anche disponibili e stiamo facendo la raccolta di farmaci che i cittadini vogliano donare e verranno sempre anche questi tramite la Croce Rossa italiana mandati in Ucraina. Arianna per completare le informazioni sulle iniziative in corso a Prato. Sì, infatti volevo aggiungere che proprio a proposito della raccolta della Caritas domani nel primo poveriggio partirà un camion alla volta di Lublino in Polonia. Raccolta della Caritas che per il momento si ferma ma comunque prosegue la raccolta appunto in denaro sul conto della Caritas per avere tutte le informazioni, poi ci sono anche proprio sul sito appunto della Caritas tutte le informazioni dettagliate. Per quanto riguarda invece un'altra raccolta ricordiamo appunto che attiva la raccolta fondi in denaro promossa dal Comitato Pro Emergenze della Città di Prato che dal dato che abbiamo ricevuto ieri sono già stati raccolti quasi 12.000 euro. Torniamo da Nicoletta Olivi, parlavamo appunto prima di accoglienza. Cosa raccontano? Anzitutto quante sono le persone accolte presso la vostra struttura? Ad oggi sono 13 di cui 7 bambini. Ecco, cosa raccontano le donne che sono arrivate da voi? Qual è stato il primo impatto che avevate avuto? Con loro immagino che sarà stato necessario anche un supporto di tipo psicologico. Praticamente da quasi subito. Le procedure iniziali sono state quelle ovviamente dei tamponi, dei test per entrare all'interno della struttura. L'accoglienza proprio di base sono arrivati senza abiti, senza necessità. Ecco, avevano necessità particolari che quindi abbiamo dovuto come facciamo normalmente accogliere ad uno ad uno. Sono tre nuclei familiari, quindi ci sono le mamme con i bambini ma anche sorelle, una nonna molto giovane ed i bambini che vanno da due anni al ragazzo più grande che è un adolescente di 15 anni. Quindi la prima accoglienza è un'accoglienza proprio di base. Sono arrivati venerdì da noi, dal sabato abbiamo subito attivato il servizio psicologico perché ci siamo subito resi conti del conto della incredulità e di questa sofferenza che dovevamo accogliere e gestire anche da un punto di vista più professionale. Ecco, come dicevi prima, è un'accoglienza di tipo diverso che va quindi trattata con la delicatezza anche di farli sentire a casa soprattutto i bambini che chiedono incessantemente del babbo e di poter tornare a casa propria. Ecco, se come immaginabile i numeri dovessero aumentare il territorio è pronto a questo tipo di accoglienza. Abbiamo vissuto in passato afflussi anche numericamente molto più alti. In questo caso appunto però sottolineavamo è un tipo di accoglienza diversa, c'è bisogno di spazi che è più di camere più che di posti letto, no? La mamma col bambino. Siamo pronti da un punto di vista anche strutturale per accogliere numeri più importanti? Le emergenze sono sempre emergenze, quindi si trattano cercando di rispondere a dei bisogni. Ovviamente rispetto all'accoglienza di uomini soli che arrivavano con l'emergenza sbarchi o alle famiglie che abbiamo già avuto alla fine dello scorso anno con l'emergenza Afghanistan, qui lo spazio di cui hanno bisogno è più veramente a nuclei familiari. I nuclei familiari però sono molto diversificati. Delle volte ci sono solo la mamma col bambino, delle volte la mamma con più figli e delle volte nuclei familiari che arrivano magari da sorelle con entrambi magari un paio di bambini, quindi nuclei un pochino più ampi. È per questo che bisogna ragionare prevalentemente a camere cercando di dare, se possibile, a ognuno il suo spazio di privacy per rendere un minimo, per preservare il senso della famiglia. Riteniamo che sia necessario fare questo in questo momento dove hanno profondamente un senso di colpa, sembra paradossale, no? Il senso di colpa dovremmo averlo noi e invece il senso di colpa lo hanno loro nell'avere abbandonato prima le proprie case, i propri familiari, non solo i mariti, i compagni, i fratelli. All'interno della struttura mi hanno colpito, eppure siamo addetti a lavori, ma non sempre riusciamo a distaccarci emotivamente, anzi, delle volte è proprio necessario anche per creare un legame subito di fiducia, farsi un po' contaminare giustamente da questa emotività. Una mamma ha un figlio di 21 anni là, un figlio è riuscito a portarlo via come minore e un figlio è lì che combatte insieme al babbo, quindi è difficile riuscire a consolare, per questo che il supporto psicologico è fondamentale. È fondamentale, ed è altrettanto fondamentale sì di garantire questi corridoi umanitari. Fondamentale garantire i corridoi umanitari. Diciamo che in qualsiasi guerra negli ultimi decenni, in teoria c'era la lealtà di permettere ai civili di andarsene, a quanto pare, devo dire, negli ultimi giorni ci sono stati dei problemi da questo punto di vista, però sì, certo, è fondamentale. Io ho ascoltato l'interfetto precedente e devo dire che sì, ho riscontrato anch'io con i contatti che ho avuto un certo senso di colpa, come se lasciare a parte un pezzo della famiglia a combattere fosse una sorta di volta che queste persone, che queste famiglie si portano dietro. tra l'altro ho visto il servizio e ho servito tanto, mi sarebbe venuto da dire adattatese bravi di uomo, i farmaci, i generi di una necessità. Intanto sì, scusi se l'interrompo, vediamo anche queste immagini davvero suggestive da Montemurlo con davvero decine e decine di luci, torce, accese. Bello. Bello. Prego, signor. Sì. No, e dunque, dicevo, io sabato scorso sono rimasto a Roma proprio perché avevamo una seduta urgente della Commissione Difesa e nel frattempo avevo preso anch'io, nel mio piccolo, un po' di generi alimentari, dei pannolini, dei beni e che li ho consegnati in un punto di ritrovo qua a Roma, la comunità ocaina si trova alla chiesa di Santa Sofia. Io sono arrivato e sono rimasto a bocca aperta. Una fila di macchine per 40 minuti e tutti erano in fila ad attendere il proprio turno per donare qualcosa e sentare una. Indubbiamente questo conflitto attoccavano gli italiani molto di tantissimi altri conflitti e probabilmente aveva risvegliato un consesso di orgoglio e di inconoscenza per quello che noi abbiamo. Lei Gisogli parlava di libertà. Ecco, la libertà è un po' come un braccio, tu ti accorgi che ti manca quando te l'hanno tagliato, che ce l'hai non te ne vedi tutto. E dall'esterno vedere che un paese che vive la sua vita normale e queste donne che vivevano tranquillamente nelle proprie case con i bambini, con i mariti che facevano mestieri disperati, da un giorno o un altro si è visto invadere. Si è visto invadere da una forza straniera, in tutto caso, chiaramente il nemico che vuole sovvertire molti di quel paese. E' qualcosa che veramente si stenta a crederci ancora. Sono passati dieci giorni, tredici giorni, sembra sia passato un anno di questo. è proprio così. La interrompo un attimo Silvi, possiamo andare anche con l'audio dalla piazza, non so se c'è anche Lucrezia Sandi pronta, ma comunque se no facciamo vedere le immagini della piazza illuminata a Montemurlo, per la regia. Eccole. la piazza è davvero piena, che è un bel gesto simbolico, ma dal significato profondo che anche da Montemurlo arriva, che non è appunto una pace, che tutti imbuchiamo e ci auguriamo di aver ritrovato al più presto. Quando Lucrezia se ovviamente vuole la linea siamo pronti per restituirgliela, nel frattempo direi approfittiamo di questo momento per andare in pubblicità, facciamo adesso la pausa e poi torniamo in diretta. Parliamoci chiaro, a fra poco. Grazie. Siamo tornati in diretta da Montemurlo dove è in corso la manifestazione Montemurlo per la pace e dove per noi si trova Lucrezia Sandri. A te la linea. Ancora non è pronto il collegamento con Lucrezia Sandri. Torneremo dunque tra poco da lei. Intanto continuiamo a vedere le immagini che giungono da Montemurlo. Torno un attimo da Nicoletta Olivi. Prima parlavamo appunto dell'accoglienza di donne e bambini presso il centro di Savignano. Siamo pronti? Sì, allora scusi un attimo siamo pronti con Lucrezia Sandri da Montemurlo. Lucrezia se ci sei a te la linea. La vediamo ma forse ci sono ancora dei problemi. Allora andiamo avanti. È il bello della diretta. Le chiedevo l'inserimento anche no? Noi parlavamo anche di bambini l'inserimento nei percorsi scolastici. Abbiamo visto prima nel servizio con il caso di Nikita il primo bambino che è entrato in una delle classi dell'istituto comprensivo Mascagni. Per altri il percorso è stato avviato immaginiamo che insomma non sia anche in questo caso semplice visti gli ostacoli della lingua insomma approntare un ingresso nel mondo della scuola in pochi giorni però per tutti questo percorso è stato avviato. Assolutamente proprio per cercare di dargli un senso di normalità ora è marzo quindi siamo quasi alla fine dell'anno scolastico quindi dei supporti sicuramente siamo in contatto con le scuole delle comune di Vaiano devo dire che all'interno di questa accoglienza c'è questo abbraccio ecco di tutta la comunità e questo facilita molto la parte di inserimento e di progettualità poi sulle singole famiglie e sui singoli bambini quindi la collaborazione e tantissime associazioni privati cittadini ci hanno contattato chiedendo se potevano fare qualcosa ecco sono tutti aspetti che ci fanno capire come veramente questo conflitto sia entrato prepotentemente nella vita di ognuno di noi e tutta questa energia va ben canalizzata nell'interesse e nella tutela esclusiva di queste persone che hanno bisogno di un'accoglienza di qualità e c'è necessità anche a mio avviso di dare supporto ai privati e ai parenti che accolgono perché anche le persone che abitano qui e che sono riusciti come si vedeva prima nel collegamento la signora di Montemurlo ha la bellezza di essere riuscita a portare i propri parenti ma magari non tutti quindi il supporto è necessario darlo anche ai cittadini che accolgono secondo me è molto importante proprio perché non sappiamo i tempi ecco che a cui dovremmo andare incontro e quindi dobbiamo accompagnare queste persone nei vari momenti che si susseguiranno sui bambini però la particolare attenzione è cercarli di riportare subito al senso di normalità e quindi non solo la scuola ma anche il tempo libero il gioco la socializzazione importante e vedere così tanti bambini all'interno di questa piazza colorata con i cartelloni mi fa proprio ben sperare e abbiamo visto poco fa Lucrezia Sandri nuovamente da Montemurlo dovrebbe essere pronto il collegamento dunque ti do la linea Lucrezia si sono in compagnia del sindaco di Montemurlo Simone Calamai di Don Jarek parroco della parrocchia di Fornacelle quindi buonasera entrambi il sindaco si è appena conclusa questa manifestazione partecipatissima qua a Montemurlo però io le chiederei tutte queste questi gridi queste grida che si levano dalle comunità locali che valore hanno perché l'abbiamo letto anche un po' sui nostri social di TV Prato ci sono tante persone anche un po' posso dirlo un po' crudeli che in questo momento dicono a cosa serve organizzare tutti questi eventi queste manifestazioni allora le chiedo a lei da amministratore locale che valore hanno? Hanno un valore altissimo perché questi momenti questi presidi questi diciamo momenti per la pace sono sicuramente una presa di coscienza da parte di tutti noi rispetto a quello che sta accadendo questo è importantissimo perché purtroppo ci siamo in una condizione di nuovo di una guerra in piena Europa dopo 80 anni circa dalla seconda guerra mondiale e quindi la comunità le nostre comunità devono prendere veramente atto di quello che sta accadendo e gridare con forza che chiediamo pace questo è fondamentale perché dalla presa di coscienza di questo potranno le diplomazie spero il confronto e il dialogo far smettere anche quegli sono i bombardamenti in corso Don Jarek lei è polacco quindi ci porta anche una testimonianza particolare perché i suoi concittadini in Polonia hanno acceso proprio queste torce sulle finestre come segno di solidarietà e di accoglienza nei confronti degli ucraini in fuga sì in Polonia ora in questa situazione migliaia e migliaia di persone sono andate proprio al confine ad accogliere queste persone perché sappiamo che i granaggi delle istituzioni girano molto lentamente ma queste persone hanno bisogno di accoglienza di solidarietà subito oggi domani perché non hanno i vestiti non hanno dove anche riposare o dormire o neanche lavarsi allora anche in tutta la Polonia ci sono questo tipo di manifestazioni ma prima di tutto c'è questa grande accoglienza il simbolo di questa luce luce della speranza della pace è importante anche questa manifestazione qui ci dice che tutti in Europa o in Polonia o in Italia o in Germania in qualsiasi paese tutti siamo uniti in questa lotta per la pace e allora grazie davvero al sindaco Simone Calamai a Don Iare che a questo punto da Montemurlo vi restituiamo definitivamente la linea grazie grazie Lucrezia per queste belle testimonianze per queste belle immagini che ci sono giunte da Montemurlo siamo quasi in chiusura intanto vorrei tornare dall'onorevole Silvi perché prima abbiamo parlato di tutte le azioni che giustamente vengono messe in campo per quanto riguarda l'accoglienza gli aiuti il sostegno alla popolazione ucraina le sanzioni alla Russia ecco da questo punto di vista si è detto si è parlato molto si è detto beh sì queste sanzioni sono importanti dovremo però probabilmente fare i conti con delle ripercussioni che colpiranno anche anche la nostra economia ecco lei cosa ne pensa? beh penso che purtroppo è come il domino quando si è dato il via alla prima tessera c'è un effetto domino che non si è stato per vada a arrivare chiedo scusa alla regia c'è un po' di ritorno probabilmente da altri collegamenti forse c'è perfetto adesso no diciamo che le sanzioni si 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 mettano in maniera unilaterale tra virgolette in questo caso l'Europa non è mai stata così unita credo negli ultimi decenni addirittura abbiamo visto paesi storicamente neutrali prendere una decisione netta addirittura abbiamo visto paesi come la Svezia e la Finlandia chiedere addirittura l'adesione alla Nato diciamo che Putin è riuscito in una settimana a fare quello che l'integrazione europea non ha fatto in 60 anni perché non ci siamo mai sentiti una cosa sola come in questo momento noi europei le sanzioni si avranno purtroppo delle ricadute enorme nel nostro paese io ricevo ogni giorno telefonate da industriali di tutti i tipi ieri da un amico che ha una grande cartiera a Lucca per non parlare ovviamente degli amici di Prato tessili soprattutto in presia d'umido per il costo dell'energia ovviamente di tutte le materie prime perché sta aumentando tutto aumenta l'energia ma se aumenta il petrolio aumentano anche gli intermetti diciamo le materie prime per fare per esempio i coloranti e addirittura anche i coloranti stanno aumentando dall'altra parte essendoci stata una sorta di serrata quindi una controsanzione da parte di Putin Putin ha bloccato tutte le importazioni dall'Italia e ci sono aziende circa 400 aziende che in Italia vivono di export con la Russia proprio oggi ho ricevuto una telefonata di uno dei pochi lanifici che ancora oggi lavora la Russia lavora diciamo lavorava fino alla settimana scorsa quindi purtroppo ci sono ahimè le sanzioni vengono poste per punire in questo caso l'aggressore la Russia chi ha innescato questo conflitto ma ricadono anche su di noi mi viene però da dire che non possiamo in maniera ipocrita una volta toccato con mano che le sanzioni toccano anche noi fare marcia indietro e dire l'Ucraina dovrebbe arrendersi perché io lo ribadisco ancora una volta l'Ucraina non deve arrendersi perché di fronte al blocco occidentale qualora questa situazione finisse a Tarallucci e Vino dando la vinda al prepotente di turno noi tra due mesi potremmo avere che ne so per assurdo Kim Jong Il il nordcoreano che invade la sudcorea piuttosto che magari dei venezuelani il governo venezuelano che invade un altro paese la situazione è molto pericolosa io vi dico anche che c'è un'allerta particolare e soprattutto c'è un'intenzione di aumentare l'attenzione a livello di difesa del nostro paese dei paesi europei non era mai successo che il ministro della difesa della Repubblica italiana dicesse bisogna aumentare la spesa per la difesa questo vuol dire che se un paese come il nostro che ripudia la guerra e che parla malvolentieri parlate bene non di guerra di difesa perché il ministero si chiama della difesa non della guerra se un paese come il nostro arriva a farsi delle domande di questo tipo vuol dire che la situazione che si è creata è di una pericolosità mai vista negli ultimi decenni e mi sento di dire che dagli Stati Uniti c'è un po' troppo silenzio io non vorrei che stessero realmente pensando a una sorta di reazione io non voglia perché ecco siamo tutti per la pace bisogna che il conflitto rimanga circoscritto lì in Ucraina e che si trovi una soluzione ma una soluzione che non veda vincitore chi ha invaso altrimenti la si dà vinta ai prepotenti e si innesca una serie di reazioni a catena che potrebbero non finire mai più ecco situazione a dir poco complicata Silli noi la ringraziamo per essere stato con noi stasera grazie grazie a voi buonasera buonaserata siamo quasi in chiusura Ulivi le chiedo ancora due minuti di pazienza vediamo un ultimo contributo che abbiamo realizzato che è la testimonianza come dicevo in apertura di trasmissione con l'imprenditore pratese Mirko Vangi che appunto dopo aver resistito con la sua famiglia a Cerniv o Cernicov come si pronuncia in italiano ha resistito in un bunker come lui stesso ci ha raccontato per dieci giorni ha deciso di fuggire di scappare dall'Ucraina dove lui vive da 15 anni dove gestisce un'azienda un'importante azienda tessile e dopo un viaggio di oltre 2700 km che è durato ben 5 giorni pensate è riuscito ieri sera ad arrivare finalmente a Prato lo abbiamo intervistato oltre 2700 km percorsi in 5 giorni per scappare da uno scenario di guerra come quello dell'Ucraina a Cernigo peraltro le bombe sono cadute cadono e continuano a cadere sì purtroppo la situazione è così la situazione è molto semplice è molto più brutta di quelle che uno vede in televisione sicuramente purtroppo ci sono interi edifici residenziali sono distrutti le persone ormai del paese sono costrette a vivere nei sottosuoli la situazione è brutta i chilometri di venervia sono stati meno forse non l'avevo mai fatto così veloce dalla Polonia a Prato però purtroppo ci sono una cosa impressionante una fila impressionante all'uscita dall'Ucraina verso la Polonia si parla da un giorno a tre giorni le persone sono in fila per uscire centinaia di miliardi di persone quasi tutte donne bambini ci sono bambini purtroppo sono fuori anche fino a 20 ore all'esterno a temperature sotto zero che sono in fila per scappare per andare dove nessuno lo sa ho avuto la fortuna di sapere dove andare ma probabilmente il 99% no io per fortuna mi sono rinchiuso in questo bunker 10 giorni che poi non più o meno è un sottosuolo in un'abitazione costruito bene in cemento armato interamente sotto terra però non avevo mai pensato di andare chiuso poi 10 giorni dentro una stanza senza vedere l'esterno l'unico l'esterno che vedevo lo vedevo tramite le telecamere vedevo e sentivo quello era l'esterno e non era proprio bello insomma più si sentiva comunque va dalla sirena in continuazione di attaccheri questo vuol dire pause di un'ora tre ore sirena un'ora pausa tre ore sirena e uno era sempre comunque va da aspettare quando quando finisce è andata bene non è cascato i missili qui insomma lavoro immagino ovviamente sia stata tanta adesso il sollievo di essere comunque al sicuro c'è però immagino la voglia di poter tornare quanto prima perché ovviamente poi la sua vita ora è lì purtroppo le cose sono là sono tante sì per fortuna io parenti insomma quelli stretti su l'ho portato via tutti però comunque vada alla moglie non ha portato via parenti l'amica della moglie che sono qui anche loro purtroppo sono là e sì sono 15 anni di vita spessi investiti in una nazione come l'Ucraina che quando iniziava a dare frutti lo dico la verità negli ultimi anni era quando iniziava il bene dell'azienda uno rischia di non avere niente perché io tutti i giorni mi mandano foto con parte di parti dell'azienda attaccate bruciate o distrutte e tutte le volte io va bene ora o non è niente andiamo avanti però insomma si parla di già danni di centinaia di miliardi di euro si ricostruiranno insomma l'idea comunque vada è che finisca l'idea comunque vada di ricostruire quello che è stato distrutto e di andare avanti insomma non di dimenticarsi lucrare almeno per ora non mi posso permettere di dire voglio dimenticare quello che c'è là spero che finirà e spero che finirà il primo possibile per poter poi ricostruire ripartire da una situazione comunque vada non semplice olivi in chiusura vogliamo ricordare anche come le persone che si rendono disponibili per aiutare nell'accoglienza ma anche coloro che hanno bisogno di avere informazioni possono essere aiutate ci sono vari canali se col supporto della grafica anche vediamo dei numeri qui ne citiamo alcuni l'accesso al percorso sanitario regionale il numero istituito dal comune il numero verde una mail apposita per l'emergenza ucraina insomma è importante passare da questi canali istituzionali perché insomma la generosità è tanta ma deve essere veicolata anche nel modo giusto esatto la generosità ha travolto tutta la città e questa è una cosa assolutamente positiva ma va canalizzata in modo da permettere a tutte le istituzioni di lavorare nella maniera più opportuna più efficiente per poter dare risposte sempre più adeguate quindi questi sono i numeri di telefono oltretutto c'è il numero della prefettura di Prato a cui ci si può rivolgere in casi che ci sia necessità di un'accoglienza proprio abitativa e poi la parte sanitaria la parte ovviamente della questura e dei comuni che sono sempre l'interfaccia più utile sui territori è fondamentale anche fare una segnalazione di presenza nel momento in cui arriva un parente o una persona in modo da poter permettere alle istituzioni di fare bene il loro lavoro e anche noi che facciamo accoglienza a riuscire a capire un po' la parte dei flussi che ancora non è chiara insomma un che è la percezione un che è poi l'organizzazione Arianna prima dei saluti sì volevo raccontare molto brevemente la storia di un giovane ragazzo fratese che abbiamo intervistato pochi giorni fa che è partito alla volta della Romania per dare il suo contributo alla popolazione ucraina Benedetto Muci ha 22 anni attivo nel mondo della solidarietà insieme a un amico hanno preso un furgone e sono partiti portando lì aiuti umanitari sono proprio in viaggio in queste ore portando aiuti umanitari ma soprattutto resteranno lì una settimana per dare il loro contributo quindi come volontari poi anche nei prossimi giorni racconteremo anche meglio la loro storia appunto ci manderanno anche la loro testimonianza quindi insomma comunque un bel gesto di solidarietà e vicinanza alla popolazione ucraina uno dei tanti che per fortuna insomma in questo periodo vediamo nascere anche spontaneamente nella nostra città testimonianza appunto del grande cuore dei pratesi della nostra comunità ringrazio nuovamente Nicoletta Olivi grazie a voi per essere stata con noi Arianna Di Rubba tutti i nostri ospiti i nostri tecnici e ovviamente voi da casa qui diamo appuntamento fra sette giorni alla stessa ora buonanotte Grazie a tutti.